Lo stress influenza le probabilità di concepimento? La risposta è... Sì! Lo stress incide negativamente sulle probabilità di rimanere incinte e questo emerge da uno studio pubblicato sul Annals of Epidemiology condotto su circa 400 donne sessualmente attive di età fino ai 40 anni. In condizioni di stress le probabilità di concepire sono del 45% inferiore e se una situazione di forte stress si verifica durante il periodo dell'ovulazione quel mese la probabilità di concepimento è del 40% inferiore rispetto ad altri mesi. Lo stress causa il superlavoro di molti organi e fa aumentare la produzione di alcune importanti sostanze chimiche, tra cui gli ormoni. Le donne con i livelli più alti di alfa-amilasi, un ormone dello stress associato al sistema nervoso simpatico, avranno una percentuale più bassa di rimanere incinte. Oggi la comunità scientifica riconosce che le emozioni possono influenzare la possibilità di concepire un figlio. Quindi donne, se volete rimanere incinte, keep calm and make babies!